Nella settimana dedicata al ricordo di Vaia, 365 giorni dopo le terribili giornate del fango di fine ottobre 2018, siamo tornati nel territorio a Gordino per farci raccontare dai sindaci le emozioni di quei momenti, la fatica del ripartire, i lavori di ripristino, il futuro delle vallate. Lo speciale andrà in onda su Telebelluno venerdì 1 novembre alle 13.15, alle 19.30 e alle 22.30 nei consueti orari del telegiornale. Solo se facciamo squadra possiamo valorizzare questo territorio e veramente fare qualcosa di buono. Se prevalgono i campanili non andiamo a nessuna parte. Noi tenavamo monitorati tutti i torrenti e c'era stato detto da chi interveniva in comune nei vertici proprio durante l'incendio che sarebbe venuta tanta acqua che avrebbe spento l'incendio. Incendio che altrimenti sarebbe rimasto probabilmente attivo per due settimane anche. Venivano anche giovani che magari spesso erano un po' fuori da quello che è l'attività della comunità e dicevano sono qua, mettimi a fare qualcosa ed è stata un'esperienza davvero per me importantissima.